Musica Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV Questo è l'appuntamento consueto del mattino con la rassegna stampa Dunque tra poco leggeremo i giornali Intanto vediamo il santo del giorno Oggi in realtà la Chiesa Cattolica ricorda la commemorazione, celebra la commemorazione dei defunti Dopo aver celebrato i santi, tutti i santi ieri, oggi la commemorazione dei defunti Vedremo anche quali sono gli appuntamenti, per esempio a Fano Il sole è sorto alle 6.44 e tramonterà alle 16.59 Per quanto riguarda il tempo non c'è molto da dire per questo giovedì 2 novembre La protezione civile delle Marche nel suo sito internet, nella pagina delle previsioni Per oggi prevede un cielo poco nuvoloso Con temperature minime stazionarie e le massime in lieve aumento Alcuni venti di brezza tesa o moderati sud occidentali Per domani, venerdì 3 novembre, ancora cielo parzialmente nuvoloso Addensamenti maggiori nelle zone dell'entroterra Le temperature in aumento Poi le condizioni saranno stabili del tempo fino a sabato Poi domenica arriverà il Garbino E la prossima settimana sarà diverso rispetto a questa Ci sarà un po' di cattivo tempo Allora, apriamo adesso il Corriere Adriatico Il giornale più diffuso delle Marche Il giornale più letto delle Marche Arriva il piano del traffico Questa è l'apertura Con l'app, cioè l'applicazione Quella che si ha sui telefonini Che ti consente di parcheggiare la bicicletta Il Comune di Pesaro studia mezzi alternativi alle automobili Per il centro e la periferia Ma l'idea che pubblica il Corriere Questa mattina con un articolo interessante all'interno È quella che riguarda il tour delle Marche in passeggino Tre blogger hanno tracciato gli itinerari Ad uso delle famiglie con i bambini E l'idea è diventata un libro per scoprire la regione Marche La cronaca Violenta lo zio invalido Un settantenne finisce in carcere Siamo a Nova Filtria L'arresto è avvenuto a distanza di dieci anni Dai fatti accaduti a Pennabilli Quando la Val Marecchia era ancora sotto Pesaro La sentenza è definitiva È stato condannato anche per sequestro di persona Nel frattempo però la vittima è morta Vola invece dalla bicicletta Dalla mountain bike Vigili del fuoco e il 118 Soccorrono un ciclista sul sentiero del Santa Croce Un 45enne pesarese Che è caduto ieri intorno alle 17.30 La pagina di Fano invece Loculi disponibili nei cimiteri L'emergenza adesso è risolta L'assessore Cristian Fanesi replica Le critiche del centrodestra La manutenzione dice l'assessore È stata garantita Ed è stata questa giunta Interrompere il degrado che durava da anni Poi c'è l'articolo Come dicevo all'inizio Che riguarda gli appuntamenti Qui se non volete perdere gli appuntamenti in città Fano acquistate il giornale in edicola Perché troverete tutti gli appuntamenti Io dico soltanto che alle 10.30 C'è il Vescovo al cimitero centrale Che celebrerà messa in particolare Per C'è dunque alle 9 La messa dedicata ai donatori dell'Avis E poi alle 10.30 Quest'ultima si avvarrà Della presenza del Vescovo Armando Trasarti Il programma delle messe E dei rituali del Comune Il cimitero dell'Ulivo invece Ancora oggi privo di una cappella Aperta al pubblico Verrà celebrata una messa Soltanto alle 15.30 Di oggi pomeriggio Errori di manutenzione Guardate la fotografia Vi fa capire di cosa stiamo parlando Lo sviluppo delle radici di quest'albero Che distrugge il marciapiede Di via Metauro Siamo vicino al campo sportivo di Fano Dicevo Errori di piantumazione E di manutenzioni carenti Il Partito Democratico Sui disservizi del verde pubblico Con il nuovo regolamento Sarà tutto risolto Poi non c'è il prete Neanche per la messa di ogni santi Nuovo disguido Torrette Malumore dei fedeli Cosa sta accadendo? I parrucchiani inutilmente In attesa alle 10.30 Non si è trovato un sacerdote disponibile Questo è un problema Ormai che sta diventando cronico Lo sarà sempre di più Non solo a Torrette Perché purtroppo Non ci sono i preti Mancano i preti Ci sono tante chiese Aumentano le chiese Si costruiscono chiese Ma non ci sono poi i sacerdoti E di conseguenza Bisogna pregare per le vocazioni Forza nonnine Pregate per i vostri nipoti Il dramma degli esodati Primeggia al Gio Cinefest L'opera di Palmisano Miglior film Daniela Poggi Conquista la giuria E sotto invece La famiglia Ordonselli Il film di Paolo Delbianco E Ortenzio Rivelli Che ha avuto sicuramente Un successo di pubblico La curiosità è stata tanta Poi la critica Come sempre Quando ci sono opere Così artisticamente geniali La critica si divide in due Tra i favorevoli e i contrari Chi si aspettava magari Un film tradizionale Così come magari ci ha abituato Lo stesso Eris e Chiaroli Insomma Ecco Invece Questo è un film un po' alternativo Un po' diverso Sempre in dialetto Che porta la firma Appunto Di due artisti Paolo Delbianco E Ortenzio Rivelli Comunque La pellicola di Delbianco Rivelli Ricorre alle tecniche di ripesa Tradizionali E dunque ci saranno Alte Ulteriori repliche Per chi se lo fosse Perso Andiamo sulla cronaca di Senigallia Del Corriere Adriatico Halloween Parti e Spinelli Quattro ragazzi con il fumo Tre amici appartati in auto L'altro sorpreso con la marijuana Sono stati segnalati Al prefetto Malora invece nel sonno Il marito la trova morta Olga Robertucci Di 62 anni Aveva lavorato a lungo Nella farmacia di famiglia Da tempo La 62enne Si era Anzi Recentemente Si era trasferita In via Dei patrioti A Montignano Ma era molto conosciuta A Senigallia L'altra pagina Del Corriere Adriatico Invece è sulla Città della Musica Questo riconoscimento Importantissimo Per la città di Pesaro Pesaro nel G20 Tutti d'accordo Su questo riconoscimento Nel mondo sono appena Una ventina I centri simili Dell'UNESCO In Italia C'è soltanto Bologna E la storia Di questo riconoscimento Parte da lontano Dal 1997 Un traguardo inseguito Fin dal 1997 Dalla Valle del Cesano San Lorenzo in campo Dell'Unti Il sindaco di San Lorenzo L'aveva detto Ecco i contributi Eppure le riduzioni Delle imposte Delle tasse Per chi restaura La propria casa Nel comune appunto Di San Lorenzo in campo Nel Pesarese Le agevolazioni Riguardano il rifacimento Delle facciate Delle case Nel centro storico Gruppo Cerioni Per chi ama la tecnologia Per chi conosce Per chi Insomma È andato a comprare Gli elettrodomestici Sa benissimo Che il gruppo Cerioni Da tanti anni Era legato ad Euronics Ebbene Il gruppo Cerioni Via 35 dipendenti Scatta la procedura Di mobilità In 233 Verranno riassorbiti Da 1 euro Perché Cerioni Ha venduto Ad 1 euro A Marzoc Che invece Alleggiano gli spettri Dei licenziamenti Per il momento Comunque Dice il sindacalista Da CGL Moscatello Per il momento I dipendenti Continueranno Con orario Con orario ridotto Siamo sulla pagina Di Pesaro Del Corriere Adriatico La pagina Dedicata Alla sociale Liberi di fare Alza la voce Dai social Alle piazze I disabili Chiedono L'autonomia Per l'assistenza Sabato Il corteo Nel centro cittadino Il movimento Per la vita indipendente Vuole l'autogestione Dei fondi Sotto invece Cottini E Viola La figlia Viola Faranno un calendario Per la felicità Dei bambini Il modello Che lotta Contro la scelorosi Multipla Attesa A San Marino Comincia oggi Per Ivan Cottini Il modello Di Urbania Questa nuova Questa nuova Avventura E lo scopo Di aiutare i bambini E donare loro Un momento Di felicità Siamo sempre Sulla pagina Di Pesaro E provincia Questa volta Da Fossombrone Dal Corriere Adriatico Troppo turnover All'asilo All'asilo nido Una maestra Fissa per i bimbi Lettera dei genitori Al sindaco E all'assessore Competente Di Fossombrone Ma c'è anche la notizia Che oggi Verrà dato L'ultimo addio L'ultimo saluto Al cacciatore Precipitato nel dirupo A Monte Felcino Oggi alle 14.30 Nella chiesa Di Monte Montanaro Si svolge il funerale Di Fabrizio Rossi Il cacciatore Di 62 anni Precipitato in un dirupo Poco distante Da casa sua Andiamo sulla pagina Di Urbino Sempre del Corriere Adriatico Il titolo d'apertura Di oggi è La gestione Della galleria Di via Mazzini Non è chiara Tesa per il bando Cutta Attacca il comune Ci sono altri spazi pubblici Da potenziare Tartufo di Acqualagna Ieri ancora Tantissima gente Nella capitale Del Tartufo Acqualagna Centro del mondo Bun di presenza La fiera Presa d'assalto Da visitatori E buongustai Entusiasti Gli operatori Si città e caldo Spingono in alto I prezzi Del bianco pregiato Sabato Arriva Il ministro Galletti La curiosità Sul Corriere Adriatico Di questa mattina La pagina delle Marche Il titolo è Matteo Renzi Ha 108 anni E vive a fermo Chiaramente L'omonimia Con l'ex premier Con il segretario Nazionale Del Partito Democratico Matteo Renzi 108 anni Ha festeggiato Proprio ieri È nato nel 1909 E lui dice Mi piacerebbe Incontrare Proprio il segretario Del PD E chissà Che non fermi il treno Proprio là Nella stazione Di questo Dove abita Questo signore Allora Esposte le reliquie Dei santi Siamo a Senigallia In mostra Nella chiesa Della croce Anche i resti Della martire Maria Goretti Nel fine settimana Un concerto Di musica lirica E la fiera Degli sposi Alla rocca E poi un capriolo Un capriolo In fin di vita Scatta la catena Di solidarietà L'animale investito A tavuglia Soccorso solo Da appassionati Scusate Dai passanti Dopo una serie Di rimpalli Stavo pensando Un attimo Agli animalisti Ma che Non solo agli animalisti Anche agli appassionati Di animali Che comunque Si sono fermati Per cercare Di prestare soccorso A questo povero capriolo Che però Come al solito Avviene in questi casi Non si sa mai A chi bisogna chiamare E soprattutto C'è una serie Di rimpalli Incredibili Nel frattempo Poi spesso Questi animali Muoiono Perché Presi dalla paura Gli viene L'attacco Cardiaco E spesso Muoiono Dopo un po' Questo succede Allora Apriamo adesso invece Il resto del Carlino Non c'è molto Da leggere Questa mattina Sul quotidiano Bolognese Comunque Ci limitiamo Alla prima pagina La sconfitta L'ordinanza Antiacattonaggio Siamo a Pesaro Di due anni fa Non ha portato risultati Restano i mendicanti Al Duomo I parcheggiatori abusivi Al Carducci E in piazzale Cinelli E qualcuno Di loro è anche Molesto Poi la notizia Che il prefetto Blocca il bar Del pentito Lui fa ricorso al Tar E alla fine vince Una vicenda Che ha come protagonista Un ex camorrista Poi Come sempre Non Perde occasione Il giornale Il resto del Carlino Di attaccare la Chiesa Lo ha fatto ieri Lo ha fatto anche In altre occasioni È un giornale Notoriamente anticlericale E contro la Chiesa Da sempre Quindi appena può Ci si butta a capofitto E in questo caso Lo fa con Tornando sulla vicenda Del prete Che adesso Si è schierato Per esempio Contro i fedeli Non vi siete fatti onore Adesso lo andiamo a vedere Però dà anche spazio Questo sì Ai sensitivi A tutto ciò Che riguarda Il mondo dell'occulto Quindi insomma Anche i cattolici Sappiano fare i propri conti Sparagnini Il sensitivo Che trova gli scomparsi Però lui dice Umilmente Io sono soltanto Un contadino La pagina di Fano Invece La pagina di Fano Carifano Cambio di guardia La direzione Dalla direzione Dalla fine Dalla fine del mese La carica va A Giorgio Giovannini Ex dirigente Della Banca Delle Marche Poi Ecco dicevamo Di Don Orlando Che scrive ai fedeli Non vi siete fatti onore La lettera Del parroco di Montecchio Contenti concatenati Tantissimi A collaborare Con la nostra redazione E a segnalarci Tutto ciò che accade Intorno a voi Quindi grazie davvero Di cuore Noi ci vediamo Questa sera Alle 20 e 30 Buona giornata a tutti